Grande giornata per l'Atletica Agropoli, in occasione della festa di fine anno della Fidel Campania Baronissi. Durante la serata la società cilentana ha fatto incetta di statuette. Il presidente Angelo Palmiere è stato insignito della Quercia di primo grado al merito sportivo del CONI. Premio riservato a tecnici, dirigenti e atleti che nel corso della carriera sportiva si sono distinti positivamente. Presidente, sinceramente è un premio che non mi aspettavo, fa sapere il presidente, quindi anche per questo mi rende doppiamente felice. Ma naturalmente è un riconoscimento che va condiviso con chiunque fa parte di questa società. L'Atletica Agropoli non è un Angelo Palmieri, ma tutto questo fantastico gruppo che insieme lavora sodo quotidianamente. Terzo posto assoluto invece per la nostra squadra assoluta femminile a Grand Prix dei campionati regionali, ovvero l'insieme di tutte le prove disputate, campestre, indoor, outdoor, prove multiple, corsa su strada, durante l'anno nelle quali ogni società acquisisce un punteggio che porta successivamente a una classifica finale nella quale la nostra società si è piazzata a punto terza. Premio individuale infine per Giuseppe Filpi e Angelo Tafuri. Per il primo, premiata la semifinale degli europei di categoria a Gior, ne 110, mentre per Andrea il bronzo agli italiani di Rieti nelle prove multiple. Soddisfazione anche da responsabile del settore giovanile Angela Gargano. Abbiamo lavorato duro e questi riconoscimenti ai ragazzi fanno piacere soprattutto per questo motivo. L'impegno è proprio la componente che mi rende più orgogliosa. Davvero non potrei essere più felice.